Il marito ideale, una figlia bellissima, la vita che tutti sognano, e poi in un attimo più nulla. Suo marito è stato ucciso. È mia figlia. Non sappiamo dove sia sua figlia. Signale. E allora ritrovare tua figlia diventa l'unica scelta possibile. La ritrovare. In arrivo sulle ruote, in prima visione assoluta. Non hai scelta il coraggio di una madre. Giovedì 21.15